Buonasera amici da casa e ben ritrovati in una nuova puntata di Abistail Magazine. Questa sera una puntata ricca di contenuti e ospiti, infatti iniziamo subito a Bombissima. Infatti sono con il primo ospite di questa serata, vale a dire Filippo Perissinotto, presidente del gruppo Valorizzazioni Culturali. Benvenuto Filippo. Evviva. Senta, racconta un po' ai nostri amici a casa di cosa vi occupate. Siamo fortunati perché facciamo un mestiere bellissimo, perché lavoriamo all'interno della bellezza, negli edifici storici, per un motivo privatistico, perché noi siamo un'azienda privata, in una società di capitali, ma con dei progetti che hanno comunque una ricaduta collettiva. E all'interno di questi edifici storici abbiamo per di più la fortuna di ospitare tra le iniziative italiane più conosciute e frequentate da interlocutori stranieri. E quindi la bellezza, lavorando per uno scopo non solo strettamente privatistico, è in contatto con tutto il mondo che viene da noi. Quindi possiamo dire che l'arte e la bellezza sono un po' il firruge delle vostre attività, ma supportate anche scuole d'arte, fondazioni? Assolutamente, i nostri interlocutori continuativi, cioè le realtà che producono, che organizzano direttamente i progetti culturali, non solo di arti contemporanea, ma in generale, sono i nostri interlocutori più fisiologici, visto che, a differenza di altri operatori nel mondo della produzione culturale, noi facciamo un mestiere il più possibile proiettato nel tempo, sin da quello che è la prima gestazione, cioè il primo tema nell'operatività, nell'invenzione di un progetto culturale, che è il sito. Intendo dire che l'anima delle nostre società, è quella che dà vita anche a uno dei due veicoli, si chiama cultural real estate, quindi immobiliare culturale, è proprio quella della salvaguardia, della messa in utilizzo, secondo una nuova vita, degli immobili storici. Quindi edifici che, come nella storia capita, edifici che hanno 300, 400, 500 anni di storia e anche di più un'abbazia a Venezia che è dell'anno 1000, del 1947, quindi è persino più vecchia di me, alle quali si dà nuova vita in maniera ovviamente non solo legata ai tempi contingenti della singola iniziativa. E quindi, all'opposto, la mostra della Biennale, i padiglioni, come si chiamano, che hanno una durata pur di medio periodo, all'incirca sette mesi, sono un tipo di nostro interlocutore, ma ancora più lo sono, giusto l'esempio che lei ha fatto, signora, la fondazione internazionale che ha deciso di mettere stabilmente la propria sede in una delle nostre città. Ok. Tra l'altro so che voi quest'anno vi siete occupati di due grandi eventi in contemporanea, vale a dire la Milano Design Week e la Biennale a Venezia. Prima di entrare un po' più nel dettaglio delle attività appunto che avete seguito per questi eventi, com'è stata la sfida di gestire queste due macro attività in contemporanea dislocate in due città diverse? Siete invecchiati, fratello. Io sì, e si vede. Ho finito le spiegazioni anche perché, per mia fortuna non mi occupo di politica, anche se gestiamo molti progetti istituzionali e di istituzioni, mi ho finito le spiegazioni anche perché non vi erano, mi permetto di esprimere un parere. Consideriamo che c'è una terza manifestazione, non esattamente piccola, dal quale noi, che c'è il Vin Italy concomitante, per cui il motivo credo sia stato semplicemente giocare con la cabala. Non ho spiegazioni. Credo di aver avuto, fattami questa domanda durante appunto, il salone del mobile, durante la settimana di apertura della Biennale, in tutte le lingue, visto che abbiamo oltre l'80% di clienti, interlocutori stranieri da tutto il mondo, tutti mi chiedevano il perché. Come se fosse colpa vostra. Noi abbiamo corso comunque per circa una quarantina di nostri progetti, rimbalzandoci come fisiologico tra Venezia e Milano, che sono comunque, almeno questa, fortunatamente, le nostre due sedi stabili, Milano e Venezia. Abbiamo rimbalzato di qua e di là, io ho fatto una quarantina di inaugurazioni di progetti, molti più di 40 brindisi. Ti immagino, va bene, è quello poi. Guardiamo il lato positivo, è che al di fuori della nostra, diciamo tragica, aggettivo, scomodato nella mente in questo caso, però, diciamo, seconda decada di aprile, è stata una conferma della, non so neanche che termine usare, ma del potere italiano potenziale, espresso, ancora non espresso, che l'Italia ha verso il resto del mondo. Rubo una battuta letta, purtroppo non riesco a citare, chissà, è stata una bellissima, dice che la cultura, che poi, probabilmente andrebbe usato, con generosità etimologica, è il soft power dell'Italia, rende veramente efficace. Nella traduzione di potere, che si vedeva negli occhi degli interlocutori, nei discorsi, nel volume degli investimenti, poi la vostra trasmissione economica, ma in questi giorni di disamina su altre testate più prettamente economiche, che si guardava anche, da un lato, come gli immobili storici, specie se rivalorizzati nel tempo stabile, appunto, con delle fondazioni che mettono stabilmente la propria sede qui, piuttosto che le iniziative, le mostre, chiamiamola genericamente così, di Bilano e Salone, muovono delle economie e hanno individuato, una piccola parte l'abbiamo fatta anche noi in questi quasi 20 anni di lavoro, a generare delle nuove asset class, però al di fuori del tema della movimentazione economica, in termini identitari, è stata una cosa senza pari, un po' fagocitata quest'anno, dall'una sull'altra, ma diversamente credo che, anzi non credo, lo vediamo dalle rassegne stampa, non vi era un organo di stampa che non parlasse di Italia in maniera diretta, per Salone Biennale, in maniera indiretta, in maniera Italia, Italia, Italia. E quindi un po' più nel concreto, cosa avete fatto a Milano e Venezia in quei giorni? Il Salone del Mobile, ne conosciamo la tempistica, quindi cinque giorni più belli di Milano, Milano fortunatamente è un calendario moricco anche durante una delle altre, oltre 30 week che durante l'anno ci sono, la prossima avventura, mi permette una digressione, è Piano City, un'iniziativa bellissima, che noi stessi appoggeremo, avremo una bella iniziativa in via Senato, è un'iniziativa ovviamente più di nicchia rispetto al Salone del Mobile, ma a mio avviso importante per la città. Milano durante il Salone del Mobile, in maniera speculare, l'apertura, in alcuni casi anche per la prima volta, di edifici storici che prima non erano utilizzati per varia natura, oppure erano utilizzati con altra forma di destinazione, la casa della famiglia storica, piuttosto che la sede esclusivamente di rappresentanza di un'azienda di rilievo, che invece, pur mantenendo la proprietà, noi su questo non è un tema nella quale necessariamente interveniamo, ma ridestinano a un'apertura che comunque si rivolge anche poi al pubblico di questi importanti edifici, e quindi su circa una decina di iniziative per il Salone del Mobile, da via Senato adiacente all'Archivio di Stato, a Brera, a via Cappuccio con un chiostro magnifico, e iniziative delle più varie, gli interlocutori, quindi i progetti animati all'interno, nel caso del Salone, sono specie del fuori-salone, che è quello di cui stiamo parlando, quindi non dentro la feria, ma nell'extra-menia, diciamo, riguardano un po' tutti gli ambiti aziendali, culturali, design, non da un'iniziativa editoriale con El Decor, parlo delle nostre in questo caso, ma mi fa anche piacere parlare in generale della movimentazione, è una cosa molto particolare sui progetti fotografici, l'archivio fotografico dell'inizia Magnum per la Veuve Clicquot in via Senato, e Venezia, con la settimana di apertura della Biennale, quindi la Biennale invece ha un'altra cadenza, quindi dura sette mesi, quest'anno un po' di più rispetto al semestre abituale, la settimana di apertura, quindi con tutto quello che è la frenesia, giustamente di far conoscere nuovi progetti, perché la Biennale, essendo necessariamente arte contemporanea, sono tutti progetti nuovi, e nuovamente, appunto, come prima per Milano, con l'apertura di siti magnifici, un nuovo delizioso sito nel nostro caso, chiamato di Mora i Santi, con una vista imbarazzante, la bellezza esattamente davanti alla Basilica di San Giovanni e Paolo, una nuova invenzione che abbiamo fatto, piuttosto che l'abbazia di qui sopra, l'abbazia di Misericordia, che si diceva, con due iniziative, una, cito solo una, per il Museo Guggenheim di New York, l'Alisson Gallery, e quant'altro, e tanta mondanità. E' sempre un po' un corollario di questi eventi. E invece, a breve, dove vi possiamo vedere impegnati? La Biennale continua, assolutamente, più che continua la Biennale, è in piena, e fortunatamente, anche grazie a produttori culturali, come noi, ma anche come altri, si mira molto a un calendario aperto, quindi su sequenze di seminari, di attività scientifiche, scientifico-artistiche, tendo a dire, piuttosto che filantropiche, piuttosto che mondane, in termini filantropici. Questa settimana, in una collaborazione che va avanti da più anni con l'Istituto della Pietà di Venezia, lo storico orfanotrofio della città, inauguriamo, nel caso del taglio sabato, un'installazione artistica, in questo caso, ma che è l'epitome, appunto, fisica, ancora più che artistica, legata a un percorso di sostegno dei bambini lì ospitati, che ha riguardato, oltre un biennio, di accompagnamento, una corretta alimentazione, la cura dei propri orti, quindi, conseguentemente, l'installazione fatta dalla associazione culturale ERA, è il nome dei produttori di sabato e riguarda i materiali stessi, fatto con il verde, con il materiale verde. Piano City, invece, Piano City a Milano. Mi spiace rimbalzare sempre Venezia e Milano, ma è il tema. Piano City a Milano e quant'altro. Noi abbiamo, facciamo un mistero veramente fortunato, chiamarlo lavoro, rasenta, rasenta, l'ingiustizia, e lavoriamo poi in tante altre città d'Italia e quasi sempre, ovviamente, nelle declinazioni locali, lavoriamo su Genova, lavoriamo su Torino, e quasi sempre con interlocutori, non necessariamente, ma così capita, stranieri, cioè internazionali. Bene, e adesso la domanda di Rito, cos'è per lei lo stile? Lo stile è il tramonto, stasera che ha smesso di piovere, il tramonto sulla facciata di Pietre Facciavista della Basilica di San Giovanni e Paolo. Sembra una bellissima immagine. Lo stile sono i glicini in fiore, durante, c'è il ribrossom in Giappone, noi abbiamo i glicini in fiore a Milano, durante, i glicini e le magnole in fiore, soprattutto le magnole a Milano, su quello, lo stile è la vita che torna a fiorire in una villa veneta, nella quale curiamo il brolo, sui colli euganei. Lo stile è tutti quelli che fanno, e io sono solo fortunato in questo, un bel mestiere, che riguarda la propria individualità, ma anche un po' di apertura verso gli altri, le nostre iniziative così scintillanti, così internazionali, così piene di divi, che vengono, attori importanti, che vengono lì per le singole iniziative, riguarda il momento di inaugurazione, ma poi durante e dopo i sette mesi della Biennale, o i cinque giorni del Salone, piuttosto che altre iniziative, oggi siamo concentrati a chiacchierare su queste, riguarda un'apertura al pubblico, senza biglietto, nel caso specifico noi, ma in generale queste manifestazioni, non riguardano iniziative a biglietto, per cui non c'è neanche la spesa, aperture a scuole, aperture a giovani artisti, che vengono sostenuti, e un'apertura di un angolo particolarmente bello, angoli particolarmente bello, della nostra Italia. Perfetto, una risposta molto originale, grazie, grazie mille per essere stato con noi. A voi. E noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità, con il secondo ospite di questa serata, ve l'avevo detto che sarebbe stata super ricca. A fra poco. Possiedi un immobile di grandi metratura a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Ekeo Luxury Real Estate al sito www.ekeo.it. Ekeo, professionisti al tuo servizio. Farina poco raffinata per pizza. Le farine magiche. Fatte bene per far bene. La pasta di camerino. Sapori da ricordare. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti. Tutti incartati singolarmente. Farine per dolci soffici. Le farine magiche. Fatte bene per far bene. Sei un content creator e cerchi un canale che ti aiuti a farti conoscere? Nasce una nuova opportunità in Casa GoTV Channel. Diamo la possibilità a tutti coloro che creano contenuti video di poter essere protagonisti sul nostro canale YouTube, che ad oggi conta decine di migliaia di iscritti. Un canale generalista con milioni di visualizzazioni e migliaia di video caricati. Un ottimo trampolino di lancio per chi vuole avere una visibilità immediata. Non devi fare altro che visitare il nostro sito dove troverai tutte le informazioni sull'iniziativa, raccontarci tutto sul tuo progetto e noi saremo lieti di proporti la soluzione su misura per te. E rieccoci in studio. Sono con il secondo ospite di questa serata con cui faremo una chiacchierata dolce, perché mi ha raggiunta Maurizio Bonanomi, pasticcere e uno dei maestri dei panettoni, perché infatti ha vinto il titolo del miglior panettone artigianale lombardo 2024. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Senta, com'è nata questa passione per un dolce così tradizionale, ma in realtà così tecnico? Allora, è nata ancora quando avevo 14 anni, nel mio paese d'origine Albavilla, in Altebrianza. Andando a scuola, io camminando per la strada, ho sentito questo profumo che fuoriusciva, profumo di uvette e di burro che fuoriusciva da un laboratorio in paese. Mi sono avvicinato e da lì, guardando dentro nella finestra, vedevo questa magia, questo sogno che nel tempo è diventato una realtà, per cui è nato principalmente in quel momento. Ah, ok, quindi proprio sin dalla giovane età, possiamo dire. Come scegliete le materie prime per i vostri panettoni? Allora, il panettone è composto da materie prime assolutamente naturali. Io sono un maniaco nella selezione di ogni singolo ingrediente, per cui a partire dall'uovo, le farine, le uvette, i canditi, andiamo a scegliere i migliori prodotti reperibili sul mercato e i migliori produttori che ci fanno apposta, con delle specifiche ben precise, quello che vogliamo noi per esaltare questo prodotto straordinario. Per cui abbiamo una selezione di artigiani che ci fanno la frutta candita, abbiamo degli apicoltori che ci selezionano dei mieli particolari, le varie tipologie di burro, le varie tipologie di vaniglia, i vari grani che vanno a comporre le farine, le tecniche di molitura specifiche per determinate farine e poi la gestione del lievito madre, che questo è l'anima. È certo. È l'anima del panettone che viene praticamente da noi. Cioè nel corso degli anni, tanti, oramai sono più di 30 anni che lavoro il lievito madre, il lievito madre è quell'elemento vivo che ogni artigiano produce e mantiene in vita e utilizza nei propri laboratori, per cui questo è il valore proprio dei grandi lievitati, è l'anima pulsante. Perché se non abbiamo a monte un grande lievito e non lo lavoriamo bene, non otterremo mai grandi prodotti. Certo. E quindi quando fate scouting di questi fornitori, valorizzazione del territorio, ma anche spaziate un po'? Assolutamente sì. Valorizzazione del territorio là dove ci sono le condizioni. Ovviamente, esempio, la vaniglia non potrà mai essere prodotta in Italia, ma in Italia abbiamo dei prodotti straordinari, dei burri, dei mieli, dei molini, dove non si utilizzano per queste tipologie di farine grani italiani, perché i grani italiani non hanno quelle caratteristiche che servono a noi. Noi occorrono grani esteri che hanno un valore proteico molto elevato, ma in Italia abbiamo dei molini che lavorano in modo eccesso questi grani per ottenere delle miscele di farine con delle specifiche studiate apposta per noi pasticcieri lievitisti. Gli agrumi, l'Italia, patria degli agrumi, Sicilia Calabria, arancio cedro, burri, abbiamo dei burri straordinari, uova uguale, per cui noi cerchiamo di assemblare alla perfezione tutti questi ingredienti. E secondo la sua esperienza, si sta sviluppando un po' di più la cultura del panettone, comunque dei lievitati artigianali rispetto a quelli appunto da banco della grande distribuzione. Sì, assolutamente sì, le dico anche una cosa che potrebbe fare scalpore, ma di fatto i numeri proporzionati di un artigiano sono superiori a quelli industriali. Addirittura? Sì, nel senso che le grandi aziende hanno improntato un lavoro che è simile ma non è uguale a un artigiano, fanno grandi volumi ma con dei prezzi più bassi perché hanno un mercato che devono soddisfare. L'artigiano punta a dare un prodotto che è oltre, nel senso tutto l'insieme di quello che abbiamo parlato poc'anzi, la selezione delle materie prime, le ricettazioni, i carichi di ingredienti che hanno questi prodotti che sono superiori a quelli standard, perché c'è da dire una cosa, un protocollo, un disciplinare, prevede che per definirsi panettone deve avere determinati requisiti, una percentuale minima di ingredienti e di determinati ingredienti. Ecco, un artigiano è molto sopra questi panetti, per cui c'è un prodotto molto più ricco, realizzato con materie prime completamente diverse. Il panettone in pasticceria, parlando di costi, sono costi che determinano un valore. Il valore non è dato dal valore monetario, è dato dal valore di tutte queste materie prime e dall'arte del pasticcere che costruisce queste opere d'arte. Certo. E sento, non abbiamo parlato in realtà di panettone, però voi vi occupate un po' di lievitati, un po' più ad ampio raggio, giusto? Assolutamente sì. Oramai il lievito madre viene utilizzato non solo adesso, da sempre, nella panificazione, nella realizzazione di impasti, delle brioche, nella realizzazione di altri grandi lievitati, i panettoni, le colombe, le veneziane, tutta la famiglia dei grandi lievitati che è infinita, per cui lo si utilizza veramente per tante cose, perché dà a livello organolettico un prodotto con dei pregi incredibili, in primis le noti aromatiche, la struttura, la conservabilità, la digeribilità. Certo. La vostra pasticceria è attiva da oltre 60 anni, viene da chiedersi qual è il segreto della vostra longevità. Io dico sempre che le cose fatte bene durano a lungo nel tempo, non ci sono altre risposte. Quando uno fa qualità, il tempo decreta sempre il successo della qualità. Questo mi sento di dirlo senza vanto, ma di fatto siamo qui a parlarne, la raccontiamo, noi ci evolviamo ogni giorno, ogni anno, a livello professionale e a livello aziendale. La pasticceria quando è nata era piccola e adesso siamo arrivati ad avere una piccola azienda con diversi dipendenti dove realizziamo numeri importanti, sempre in maniera completamente artigianale. Certo. E a questo punto la domanda di Rito, che cos'è per lei lo stile? Lo stile sono una serie di cose, è brutto dire cose, però una serie di fattori che determinano la personalizzazione di una persona o di uno o più prodotti. Abbiamo detto prima il saper ricercare, il saper presentare, il saper costruire un prodotto perché non è un prodotto nato a caso. Cioè qui dentro c'è una ricerca di anni, le dico solo che il ceppo di lievito che usiamo ad oggi è la terza generazione a memoria che viene sempre rigenerato, per cui non è che un lievito più è vecchio di anni e meglio è, no, però a livello di emozioni regala qualcosa che è magico, per cui quando uno va, un consumatore si presenta in una pasticceria, c'è quel valore aggiunto dove tu incontri non tanto un prodotto ma una storia di un prodotto, dei valori unici. E questo rientra un po' nello stile che caratterizza la persona, una serie di cose che assimilate danno il risultato finale. Perfetto, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a voi per aver guardato questa puntata, l'appuntamento è per settimana prossima. Ci vediamo lunedì alle 21 sul canale 229 di Sky e sarà l'ultima puntata di Abista e il magazine di questa stagione, quindi non mancate. Buona serata. Adesso però basta, eh!